Signor Presidente, pronti in cinque minuti. Buonasera, signora. Buon Natale, Mike. Ai vostri posti stiamo uscendo. Porto fuori io tutti i regali. Guarda che ho trovato. Signore di me! Hai fatto quello che andava fatto su quel ponte. Anche il Presidente lo sa. Smettila di tormentarti con i sensi di colpa. Signor Presidente, siamo pronti. Il nostro ospite sta arrivando. Benvenuto alla Casa Bianca, signore. C'è stata un'intrusione. Venga con me. Siamo sotto attacco! Indietro! Datemi il Pentagono. Adesso! L'Olimpo è crollato. Ripeto, l'Olimpo è crollato. Signor Vice Presidente, sta a lei prendere il comando. Voglio parlare con i russi, i cinesi, gli inglesi e i francesi. In quest'ordine. Se troverete a impossessarvi di questo edificio, giustizieremo il vostro Presidente. Oh mio Dio. Uno dei nostri è rimasto all'interno della Casa Bianca. Si identifichi. Matricola 309. Santo cielo, Benny. È la stessa persona che abbiamo rimosso dalla scorta del Presidente. Apparteneva alle Forze Speciali. Ci saranno almeno 40 mercenari armati pronti a tutto. Ci si può fidare di lui? Col dovuto rispetto. Mi dispiace, ma non avete scelta. Annunote! Annunote! In gioco c'è la salvezza del Presidente degli Stati Uniti. In gioco c'è molto di più, signora. Ci sono aperte le porte dell'inferno. Gli Stati Uniti d'America non negoziano con i terroristi. E chi ha parlato di negoziare? Gli Stati Uniti. Grazie a tutti.